buongiorno a tutti e bentornati ci troviamo in vallo ana una valle laterale della valvigezzo oggi sono in compagnia di mio fratello alex il punto di partenza del giro di oggi è il rifugio laurasca che si trova sopra malesco siamo in provincia del verbano così ossola di fronte al rifugio c'è un ampio parcheggio dove è possibile lasciare la macchina poco sotto la struttura invece proprio vicino al torrente c'è un altro parcheggio gratuito dove è comunque possibile lasciare la macchina l'intenzione di oggi è quella di salire al bivacco scaredi noi ci mettiamo in marcia come indicato dal cartello si prospettano due orette di cammino iniziamo l'escursione con questa valle che andremo ad esplorare oggi per la prima volta il sentiero principale l'emme 14 passa alla sinistra del torrente noi invece l'abbiamo attraversato siamo venuti qua sulla destra perché volevamo vedere da vicino le splendide case dell'alpeggio è bellissimo perché è diciamo incorniciato da questi incredibili colori autunnali e niente adesso continuiamo di qua e poi andremo a congiungerci sul sentiero principale continuiamo in questa piana spettacolare cos'è questo? sembra tipo una pipa una pipa o un corno non lo so c'è inciso la scritta fornale in effetti questo punto qua dove siamo arrivati si chiama le fornaci perché qui in balloana esistono dei forni che venivano un tempo impiegati per la realizzazione della calce i forni venivano riempiti posando uno strato di pietre sul fondo per impedire la dispersione del calore durante la cottura erano successivamente alimentati con fascine di legno secco caratterizzate da un alto potere calorifico la calcinazione durava tre giorni e tre notti durante i quali gli operai si alternavano per mantenere costante la temperatura a mille gradi centigradi vicino ai forni abbiamo trovato un piccolo capanno che probabilmente veniva un tempo utilizzato come riparo dai lavoratori poi ci sono anche dei tavoli e delle panche guardate che bella la vista da questo punto questa è la piana che abbiamo attraversato prima che colori oggi è il 13 di ottobre e devo dire che siamo stati fortunatissimi a scegliere questa destinazione per il giro di oggi questa mattina in realtà dovevamo andare in valle d'evero poi abbiamo guardato per curiosità il meteo e ovviamente davano acqua e quindi abbiamo deciso di venire qua in valloana scelta super azzeccata sia per il meteo adesso si sta un pochino velando però quanto meno siamo partiti questa mattina con il sole gli alberi ci stanno regalando un fogliage incredibile ci sono dei colori davvero pazzeschi non posso quindi che consigliarvi questa valle nel periodo autunnale perché come potete vedere dalle immagini è veramente uno spettacolo arrivati all'alpe corte nuovo 1793 metri d'altezza ecco il cartello ci dice che in circa una decina di minuti dall'alpeggio dovremmo raggiungere l'alpe scaredi e quindi anche il bivacco bello qua questa piccola baita qui sono ben attrezzati e hanno anche i pannelli fotovoltaici eccoci allora siamo arrivati all'alpe scaredi dove c'è anche il bivacco qua ci troviamo a quota 1842 metri quasi una sorta di scultura come dice la targhetta è una scultura dedicata ai caduti della montagna da qui ci sarebbe anche una vista pazzesca sul monte rosa ma abbiamo un pochino di sfortuna purtroppo è tutto annuvolato allora pausa pranzo cosa c'è eccezionale il pranzo di mio fratello qua si mangia messicano perché è tipico dell'alta montagna cucina messicana crema di fagioli non ci facciamo mancare nulla una buona faieta di pocho io invece non smentisco mai le mie buone abitudini pizza con le verdure va bene buon appetito buon appetito c'era anche un comodo tavolo davanti al bivacco però era già occupato da alcune persone quindi ci siamo messi un pochino qua in disparte a mangiare tranquilli andiamo a dare un occhio all'interno del bivacco tra l'altro è salito il vento e ha portato via un po' di nuvole e adesso infatti il monte rosa si è aperto questo è il tavolino con le panche che vi dicevo prima qua di fronte la vista sul monte rosa che spettacolo bellissimo ok adesso entriamo a dare un occhio al bivacco allora vediamo un po' con la porta aperta c'è un bel tavolo con panche al centro della stanza una bella stufa legna ce n'è poca ci sono un po' di rami qua vicino alla scala qua ci sono delle pentole non so se magari qua dentro c'è qualcosa come stia? è una sella ah ok delle pentole venga i decici qua saliamo la scala andiamo al piano superiore vediamo un pochino cosa c'è allora un ampio spazio sicuramente non ci sono letti c'è giusto questa brandina che ha visto tempi migliore con questo vecchio materasso al centro il tubo della stufa che ha questo riparo alla finestra ecco qua caspita e che vista monterosa vai vai facci strada cosa c'è qua qui c'è un altro localino proprio alla destra del bivacco c'è il bagno c'è il bagno vediamo un pochino un lavandino la torca e boom qui dal bivacco abbiamo deciso di fare un piccolissimo giro ad anello qua in alto quindi ci lasciamo il bivacco alle nostre spalle e seguiamo il cartello in direzione della cappella di terza che dista 5 minuti da qui com'è la cappelletta a Santa Genoveffa vi dicevo piccolo giro ad anello perché qui alla cappelletta ci lasciamo questa grande montagna alla nostra sinistra e noi seguiamo dritti e ritorniamo nella valle che abbiamo percorso prima facendo la discesa da questo lato ritorniamo nei pressi dell'Alpe Cortinuovo e da lì poi riprenderemo lo stesso sentiero che abbiamo preso questa mattina in salita vi ricordate che questa mattina quando siamo partiti vi avevo detto che il sentiero principale si trovava dall'altra parte del torrente mentre noi abbiamo attraversato la piana ecco adesso che siamo in fase di rientro faremo l'ultimo tratto proprio su quel sentiero lì così anche qua più in basso andiamo a fare un piccolo giro ad anello qua da questo lato del torrente c'è un piccolo alpeggio carinissimo cioè ci sono queste tre casettine ristrutturate bellissime penso proprio che adesso per concludere questo giro ci fermeremo al rifugio laurasca a bere una bella virretta dissetante due parole sul giro di oggi è sicuramente di tipo escursionistico abbiamo trovato in cima al bivacco anche delle famiglie con i bambini il dislivello è stato piuttosto contenuto ma comunque c'erano dei tratti di mulattiera che tirava abbastanza quindi minimo di allenamento ci vuole spero che questo video vi sia piaciuto se avete apprezzato il video mettete due pollici per liberi in alto per questa ragazza un saluto dalla Valloana e ci vediamo presto con una nuova avventura in montagna ciao ciao c'è l'esperienza ad Oktoberfest mai partecipato eppure su cin salute cin